Siamo qui per parlarvi di Circuito Musica, il nuovo portale della musica classica italiana. Avevo esigenze di rinnovare il mio sito internet ed ho aderito subito a questa nuova community. L'idea infatti è tanto semplice quanto geniale. Attraverso il portale si possono immettere nuove informazioni, pubblicare i propri aggiornamenti che in tempo reale vengono memorizzati dalla propria pagina web. In questo modo posso immettere nuove foto, nuovi eventi, pubblicare i miei dischi, i miei files audio. Insomma, Circuito Musica è il nuovo portale della musica classica.